Ho trovato un sito dove acquistare gli occhiali a prezzi convenienti e con un sacco di montature e di lenti particolari. Il sito si chiama Firmo e vi lascerò il link del sito nella mia bio, insieme ovviamente al 50% di sconto dedicato a voi per poterli acquistare. Potete trovare tantissimi tipi di montature diverse e super alla moda, veramente bellissimi, e potete mettere voi la lente che preferite, quindi progressive, da vista, antiluce blu, eccetera. Quindi date un'occhiata al sito. Quelli che ho scelto io sono qui, riportati in questa bellissima confezione e ora ve li faccio vedere. Questo è il packaging e questo è l'occhiale che ho scelto io, vi lascerò anche il modello giù. È bellissimo, le lenti sono meravigliose, veramente posso garantirvi che si sente la differenza. E l'occhiale, come vedete, ha la montatura viola. Bellissimi, sono rimasta veramente super soddisfatta da questi occhiali. Questi occhiali costano 27,99€, ma come vi ho detto, siccome ho il 50% di sconto per voi, ve lo lascio giù qui nella bio. Sul sito vi dà la possibilità di scegliere tra le tantissime montature disponibili, tra occhiali da sole e occhiali da vista e anche il tipo di lente da vista di cui avete bisogno. Date un'occhiata al sito e fatemi sapere che cosa ne pensate di questi occhiali. Ciao!